Marco Sportiello, partita difficile contro un Genoa che vi ha impegnato non poco. Sì, sì, è una partita molto difficile, lo sapevamo. Loro comunque da quando è arrivato questo nuovo allenatore, sta dando del filo da torcere tante squadre. Comunque abbiamo avuto molte occasioni, la palla non è entrata, però guardiamo avanti e guardiamo giovedì. Comunque sei stato chiamato in causa e ti sei fatto trovare pronto subito. Sì, ho fatto la mia partita, ho fatto quello che dovevo fare. Quest'anno ho giocato un po' poco, però comunque non mi sento un secondo, quindi non so quello che posso dare e sono contento di essere tornato in campo e dare il mio contributo per la squadra. E nonostante lo 0-0 ci siete andati vicini al gol in molte occasioni? Sì, sì, anche nel primo tempo. Comunque la partita era molto chiusa, abbiamo avuto un paio d'occasioni, abbiamo rubato il palo nel loro metà campo. Mi ricordo il palo di Luis e anche poi nel secondo tempo abbiamo avuto tre o quattro palli importanti, la palla non è entrata e è un campionato difficile dove tante squadre perdi molti punti per strada, ma è normale, quindi lo sappiamo e andiamo avanti, mancano ancora un bel po' di partita. Può aver inciso l'impegno di Coppa di giovedì scorso? No, abbiamo visto una squadra stanca, anzi, comunque il mister ha girato un po' qualche giocatore che ci sta comunque con il doppio impegno, abbiamo speso tanto l'altra sera in casa, abbiamo fatto una grande partita col Bayern Leverkusen e adesso ci aspetta questa partita bellissima e di prestigio. Grazie.